ancora una volta ciao ragazzi io sono diego e oggi torniamo su finalmente sull'ultra vanilla che da un po' non ci andavamo a giocare e niente iniziamo l'obiettivo di oggi è completare la nostra coltivazione che avevamo già iniziata allora ci avevamo uno stack di terra è una nostra zappa speratino ok possiamo già andare io vi ringrazio per questo traguardo che sono 22 iscritti io vi ringrazio veramente ma spero si può fare direttamente così ma sì allora mica lo sapevo allora facciamo ce l'abbiamo dell'acqua non vedere in casa comunque qua gli alberi sono cresciuti non c'ho pieno dell'acqua non vedo ancora non c'è pieno un secchiello che almeno se la trovo solo due lingotti di ferro mamma mia allora mi sembra di andare a prendere altro ferro ora mi sembra di andare a prendere l'acqua qua c'è l'acqua ed è vero ok senti qui tanto ci manca solo un lingotto no dai il piccone mi finisce dai ferro del ferro del ferro voglio solo del ferro non dico diamanti perché c'è dalla terra Cioè fra un po' arriviamo all'altezza dei diamanti Eh sì vabbè no 50 ancora Vabbè scendiamo di così Intanto se troviamo uno di ferro non troveremo altri di ferro Quindi piccolino lo possiamo farci E dai Finalmente Altro no Quanto? 6 ok 3 lo usiamo Per il piccolo Vabbè sì sì No Oh Un attimo eh Ok siamo un po' incasinati Le torce ce le mettiamo qua Vedo la luce Dai 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 Sarà arrivata la notte Siamo arrivati ok perfetto Questo è la loro E dai No ancora giorno Questa sarà la nostra miniera Ok L'hai già cresce No Ok dai Qua è finito Qua andiamo a sciogliere il ferro Qua andiamo a sciogliere il ferro Questo ce li teniamo La zappa No aspetta Intanto uno sarà già pronto Due A farci il secchiello Qua andiamo a sciogliere il ferro Camminato E che cacchio Ok 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 Qua andiamo ora in teoria andiamo a prenderci l'acqua e ora in teoria mi sa che non abbiamo proprio i semi pure però in genere mi ricordo che avevamo raccolti no non abbiamo raccolti allora scaviamo 7 per il momento pensiamo questi aici ne riman bano tre ma in tutti questi per sbagliare ci avrò saltato sopra a 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 secco mai perfetto e risorniamola 8 da fuori bruttina la nostra casa la miglioreremo 4 poi coprimo un altro secchio va bene questa è la coltivazione poi questo ce lo mettiamo qua dentro poi cosa possiamo fare la coltivazione per me quella ci basta vorrei prendere un po' di legno finiamolo tutto l'albero poi l'altro lo lasciamo ora ci arriva meo quanto ci ha si va bene finiamo domani allora queste piccole no ci potevamo finire l'armatura e vabbè si vabbè noi siamo pieni di legno ok io andrei a fare abbiamo altri semi quindi andrei a fare un altro po' ok ragazzi per questo video è tutto lasciate un commentino se e avrete una giornata speciale lasciate un anche un mi piace se volete aiutarmi e io vi auguro una buona giornata ok